non sono i trans sono le persone trans giusta correzione prima di metterti a dire che siamo un misterioso problema almeno usa i nomi giusti siamo ma infatti io questo l'ho detto prima a Simo l'ho detto io oggi devo stare tranquillo perché l'altra volta l'ho un po' esagerato lo devo ammettere sono stato un po' un po' troppo però l'unica opzione Gianluca in grammatica italiana Gianluca una piccola lezione in grammatica italiana se dici i trans sono le persone trans significa che il soggetto della frase è i trans quindi quando dice siamo si riferisce grammaticalmente a trans allora secondo io ho qua una domanda spontanea per voi cosa ti rende un barra una trans intanto dichiararlo perché quanto mi risulta oggi trans mettono nella bio di instagram quindi io posso diventare trans entro 5 minuti basta che fai modifica bio di instagram è una roba seria ovviamente no chiedo ragazzi perché io a trianfartate per la legge io a trianfartate io a trianfartate l'ho visto truccato voglio capire cosa potrebbe renderlo trans non c'entra nulla non sto capendo mi sta sfuggendo la risposta seria è una cosa che tu senti dentro da sempre esatto ovviamente a parte le battute ambito diciamo clinico disforia di genere ambito legale iter burocratico in cui poi c'è anche il cambio magari dei documenti pubblicamente tu puoi anche dirlo da oggi sto cominciando questo percorso questo è ciò che io sento di essere eccetera però io come ho detto prima a Simone non voglio andare all in secondo me sono due le opzioni levata questa perché secondo me è assurda cioè sarebbe veramente la conferma dell'ultima trasformazione perché ho detto che cazzo manca ormai solo di cararsi trans secondo me ci sono due possibilità una è quella che dice Gianluca quindi si è incluso all'interno diciamo di una minoranza di cui non fa parte però come no al massimo dal punto di vista della persona che viene discriminata per la sua etnia ma non per quanto riguarda altre componenti mi dispiace anche perché vabbè facciamo stare comunque rimane un maschio bianco sì però secondo me lui voleva scrivere secondo me voleva scrivere siano a un punto alimento generale no perché mi sono perso la propulsione e cambierebbe tutto esatto però non possiamo sapere no no vabbè poi chiediamoglielo magari ci risponderà Adriana però commenta eh no credo perché vedi prima eh no perché prima di metterti a dire che siano un misterioso problema almeno usa i nomi giusti perché siamo nonostante il giusto appunto di Gianluca poi vabbè insomma adesso non ci mettiamo a fare i professori d'italiano con Adriana per l'amor di Dio non è una presa in giro però non mi ha detto un amico che stava a dipe no 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 lo so lo so stava a dipe Gianluca che è italiano no no ma pure Adriana è italiano per l'amor di Dio però sai che Simo a me non è madrelingua italiano no è madrelingua sai che ho sviluppato questa cosa quando leggo qualcosa che mi verrebbe debblastare una persona al 100% provo capito a a dargli una salvezza la via di fuga no perché sapete che c'è che mi sembra assurdo perché adesso un conto è dire vabbè pansessualità non binario che sono cose vabbè ok dillo vero o no sti cazzi mettiamo caso che sia tutto vero trans mi è nuova questa cosa quindi io credo ma perché noi ci ricordiamo le ultime foto capito no vabbè ma secondo me è per dire che sarebbe 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 l'ennesimo cambiamento legittimo però mi suona strano è un fan dell'etichetta ma non devi essere fan devi essere fermamente convinto non userebbe mai la parola ma non si identificherebbe mai come un trans essendo un fan delle delle etichette cioè a me non sembra che Adrian stia in un processo di transizione quindi molto ferrata la seconda possibilità quella del Siano perché il Siamo riferito come lui che si sente trans secondo me spero per lui è proprio completamente escluso e se volesse se avesse voluto scrivere Siani anche volendo capito in quel caso cambia addirittura ancora tutto allora qua dicono non binarismo rientra nell'ombrello della transessualità vabbè ragazzi non è il caso di Adrian Fartate non può includersi all'interno adesso mi incazzo Adrian Fartate non può includersi all'interno di un discorso relativo alla discriminazione delle persone trans mi dispiace mi dispiace ma come no anche in virtù del suo status come abbiamo detto l'altro giorno una persona che ha un certo status ovviamente come parlamo per la campionessa di pallavolo deve battersi questo va benissimo anche per chi non è nella sua stessa posizione ma è un discorso diverso che non può auto includersi in una categoria trans mi dispiace no no perché ci sono altre implicazioni anche estetiche come dicevamo prima l'esempio dello spogliatoio cioè le persone che ovviamente hanno quel tipo di problema nella vita di tutti i giorni non nelle discussioni anche al Cerbero su Twitter in cui effettivamente un non binario fammi capire bene oh no mi stai sul cazzo perché il non binarismo ma che è sta cosa nella realtà e da Bicocca come anche Carli potranno confermarcelo è completamente diverso parlare di non binarismo e parlare di una persona trans che magari deve far coincidere un aspetto che al momento ancora non rappresenta una figura associabile una figura femminile con ciò che in realtà interiormente è ma se fatte le foto con il rossetto che non ha nulla a che vedere come no l'ho messo prima apposta Ed Wood sono confuso l'ho messo pure il vestitino l'ho messo apposta Ed Wood ma io pure spesso mi metto quasi la donna ma alla fine gli mancano solo le tettine come gli mancano se vai a vedere no dai ragazzi ma scusate una cosa non sto capendo più niente non ho capito ma scusate una cosa io avevo sentito un esperto che ora mi sfugge il nome che stava dicendo la differenza tra trans e persona che invece è travestita allora anche questa cosa ragazzi è fondamentale travestito non ha nulla a che vedere col genere sì però il fatto di Adrian Fartate non potrebbe essere identificato come trans sotto nessun punto di vista no è quello fattualmente no a meno che non dica a prescindere dal mio diciamo dalla mia ricerca di outfit che può essere come diciamo altre volte connessa mi sento donna voglio vestirmi una donna è normale ne parlavamo anche in relazione al seno di Carli eccetera però non mi pare che l'abbia detto quindi secondo me o si è sbagliato o come dicono in chat si è autoincluso nella categoria trans in quanto non binario eccolo inclui anche la transessualità nei commenti Adrian dice che tra sé se utilizza pronomi femminili ma qualsiasi pronome usato va bene Adrian è transgender in quanto non binario sì sì Anna noi non binari stanno pensando di calcolarlo anche come trans sì ma l'avevamo detto pure l'altro giorno quando diceva tra me e me mi do mi do del cioè utilizzo con me stesso i pronomi femminili ma non mi disturba però questa era una discussione in relazione alla Rowling e alle persone trans e questo ha citato esempi precisi in cui le persone trans vengono discriminate cioè la cosiddetta per il popolo bue donna ma corcazzo che io non voglio nel mio spogliatoio ok ma quindi Adrian tipo pensa quando fa una buona azione sei stata molto brava no ma soprattutto aggiungo un dettaglio ma questo secondo me è una cazzata però è un'illazione pura un processo alle intenzioni che dovete prendere e gettare via perché è il mio e non la fede il fatto qual è che poi le persone trans ovviamente per entrare nel meccanismo burocratico della società devono anche fare dei cambiamenti magari di documenti ed è lì che spesso subentrano i problemi pratici l'iscrizione in palestra l'iscrizione ad una competizione sportiva il lavoro che non riguarda in alcun modo la figura di Adrian quindi vabbè si è voluto includere all'interno di questo cappello in quanto non binario ragazzi ho capito va bene fallo Adrian però secondo me è sminuente nei confronti non torno serio perché il discorso l'altra volta è sminuente nei confronti di chi veramente come Abbi Cocca come Cali come tantissime altre persone cito sempre loro perché le conosciamo e quindi ci hanno fatto capire le difficoltà della vita di tutti i giorni anche solo per fare un cazzo di lavoro secondo me questo è un insulto io non ce la faccio ragazzi non ce la faccio mi sento preso per il culo quando sento una storia come spesso mi è capitato ho beccato pure ieri a Bicocca tra l'altro alla premiera spesso mi è capitato di parlare con lei e insomma si ma hanno accettato il lavoro poi hanno visto documenti che non hanno fatto esperienze dirette come già avevo raccontato in palestra persone che fanno regolarmente l'iscrizione poi presentano i documenti sono documenti ancora maschili allora non puoi e Adrian Fartate che si butta dentro eh sì Davide un conto è fare diciamo divulgazione anche su questi temi batterti aiutare dalla tua posizione privilegiata esattamente come la nostra sacro santo però per me questo è un insulto io non so che dirvi eh